Il problema però Anna, come tu sai, è che questo stabilimento così importante, strategico, parole di cui si riempie la bocca alla politica, è senza personale. Da il 2500 di qualche anno fa, sono poco più di 800, la metà andrà in pensione di qui al 2025, quindi siamo proprio agli sgoccioli. Intanto grazie a Pietro Avellino dell'FPCGL di Taranto, benvenuto. Grazie a voi, grazie per aver accettato il nostro invito. Abbiamo una serie di contributi, però se tu sei d'accordo Anna, partirei proprio con lui, perché lui oltre ad essere un sindacalista è anche un lavoratore dell'arsenale da ben 12 anni. Allora, nessuna domanda, nessuna provocazione. Facciamo un prima e dopo. Esatto, poi lo capiremo, ma ci spiega la situazione attuale qual è? Le problematiche più grandi quali sono? La problematica più grande è la carenza del personale, la carenza che si è ridotta negli ultimi anni drasticamente. Parliamo degli enti della difesa, non soltanto dell'arsenale, ha anche carenze del 40%, e come ha ben detto lei, che nei prossimi anni questa carenza aumenterà ancora di più. Noi siamo qui per chiedere assunzioni, assunzioni e assunzioni. Senza proclami abbiamo bisogno di fatti concreti. L'arsenale, come altri anni della difesa, hanno un impatto sulla città davvero grande. La loro estensione occupa quasi 260 ettari di territorio tarantino. Basti pensare all'arsenale, che sono 90 ettari da ponte a ponte, da ponte a gire, da ponte a ponte a penna. Prima impiegava un sacco di operai, adesso, come ha detto lei, sono quasi 800 e quindi stiamo perdendo potere occupazionale sulla nostra città. In realtà si sono fatti, anche anticamente, negli anni 70, c'era questo problema occupazionale che poi fu risolto grazie a interventi dell'organizzazione sindacale che attraverso delle manifestazioni, che portò alla creazione della legge 285 del 77 con un'assunzione di 2.000 posti di lavoro. Quindi c'è stata una prima assunzione negli anni 80. Assunzioni poi che non sono state fatte negli anni. Adesso queste mancate assunzioni, pensionemente, si sentono pesantemente, impattano proprio sul nostro stabilimento, ma anche sui altri enti della difesa, anche perché le cose da fare ci sono sempre e quindi è uno stabilimento attivo. La storia dell'arsenale appartiene a Taranto, ha oltre 135 anni, come ha detto lei, è davvero prima dell'ILVA. Quindi ognuno di noi ha un parente assenalotto in famiglia e questa connubia del parente va tutelato. Da parte della cultura tarantina. Esatto. La cosa ancora più grave è che si stanno perdendo nel frattempo professionalità, perché si è fatto un concorso un po' di tempo fa per 315 persone, in realtà ci avete detto voi stessi nell'assemblea della CGL che si è tenuta due giorni fa all'interno dell'arsenale, che non si sa queste persone quando verranno effettivamente assunte, ma c'è circa 125 sulle 315 originali, quindi numeri ancora più bassi. Sì, sì, ma in proposizione ci sono dei numeri davvero drastici. E nel frattempo andranno in pensione gli storici, quelli bravi, e chi insegnerà a questi ragazzi, che magari hanno due lauree, ma non hanno mai fatto un lavoro manuale, pratico? Esatto. Il nuovo ha questi che si perde e poi, come ha detto lei, in realtà questo concorso tanto agoniato, da tempo 315 posti non ha assortito gli effetti sperati, perché meno di 150 saranno i posti che saranno assunti, quando saranno assunti. Ovviamente questa situazione è drastica perché non c'è la possibilità di trasferire le competenze verso il nuovo personale. Io credo che bisogna investire sul lavoro diretto da parte dell'assenale, perché ha dei costi inferiori e anche delle tempistiche di intervento più rapide rispetto al privato, ma anche per non rimanere ostaggio dell'industria privata, che spesso ci obbligano con dei tempi che sono molto lunghi rispetto... Si sta molto esternalizzando. Esatto. E a che costo? Allora, io vorrei farle due domande. Intanto sicuramente questa situazione di malessere non è recente, si protrae nel tempo. Almeno dieci anni, penso. È una questione che si può risolvere a livello governativo. Quali sono state le risposte che voi avete ricevuto? Se ne avete ricevute, perché poi molto spesso la politica è anche molto vaga, così come diceva Gianmarco. In realtà non l'abbiamo ricevuto. Non soltanto i gridi di allarme da decenni, come diceva lei, nel 2012 è stata una legge 244 che prevedeva la riduzione del personale della difesa. Bisogna scendere a 20 mila, no? Bisogna scendere a 20 mila. Adesso, infatti, sono 13 mila. Confronto con la Francia, che ne ha 60 mila, Germania 82 mila, Gran Bretagna è più o meno 60 mila. Cioè, lascio immaginare il divario che c'è, non so se mi spiego. E poi parliamo del Ministero della Difesa, il Ministero della Guardia, no? È quello che si occupa dell'innovazione degli stati. Cioè, è qualcosa di davvero eclatante, no? E poi un'altra domanda. Lei, oltre ad essere un lavoratore, è un rappresentante sindacale. Che responsabilità hanno i sindacati in questa situazione? Beh, a noi spetta il combito di rappresentare questo disagio. Rappresentare e fare intervenire, richiedere l'intervento del governo. Certo, però la sensazione, io non so se a Taranto è così, se voi mi potete confermare. E' come se negli anni i sindacati, a prescindere in questo caso dall'avvertenza che riguarda l'arsenale, ma anche nel caso ILBA, nel caso centrale Federico II a Brindisi, quindi è un po', diciamo, secondo me, un mal comune, ecco, che i sindacati abbiano un po' perso il potere di contrattazione. Non abbiano più la capacità, come un tempo, di far ascoltare la propria voce. Io credo che adesso la società stia vivendo un periodo di profonda transizione. La società è sempre un po' più indifferente. Ovviamente anche i sindacati cercano di farci impoverire, ma non ci stanno riuscendo perché noi ci rappresentiamo bene in uno stato d'animo. Anzi, aiutiamo spesso il governo a non rappresentare il malessere in forma civile, perché a volte potrebbe sfociare manifestazioni che non producono niente in termini di fattività. Io credo che il sindacato invece bisogna animarlo, perché ha fatto delle conquiste eccezionali nel tempo. Altrimenti abbiamo dietro l'angolo il precariato, il precariato che si sta sviluppando ovunque. Il lavoro pubblico ha dimostrato recentemente durante il Covid che è fondamentale per lo Stato italiano. E allora noi poi vi leggeremo brevemente anche cosa ha risposto la difesa. In realtà la Marina Militare che ci ha inviato proprio una nota riferita alla situazione dell'Arsenale, perché nella giornata dell'Assemblea la Marina non ha rilasciato dichiarazioni, però ci hanno tenuto a farci arrivare una nota, quindi correttamente leggeremo per mettere a confronto entrambe le campane, commettiamola così. Però intanto vi farei ascoltare l'intervista a Grazia Albano, una sua collega che da 40 anni opera in Orsenale, anche lei della segreteria provinciale dell'FPCGL. Le ho fatto delle domande un pochino pesanti, anche provocatorie, e lei ha risposto molto chiaramente. I numeri purtroppo sono negativi. Ascoltate. Io sono una dipendente dell'Arsenale Marina Militare, ci lavoro da circa 40 anni. E come succede da anni? Oggi ci teniamo a fare questa tavola rotonda insieme a tutti i parlamentari e le istituzioni, nonché i militari, i vertici militari dell'area ionica, soprattutto, proprio per lanciare un ulteriore grido d'allarme, perché la situazione ormai è diventata insostenibile. Un tempo solo l'Arsenale contava 2.500 dipendenti, oggi ne conta appena 850. Di questi 850, fra due o tre anni, il 50% andrà via, sicché la forza in Arsenale, come in tutti gli altri presidi della difesa di Taranto, che sono 18, diventerà pari al 30% circa di quello che serve. Che vuol dire, inoltre, che i rimanenti sono soprattutto ex militari transitati per problemi di salute, che hanno una serie di limitazioni, per cui alcune attività tecniche non le possono fare, per cui il numero si dovrebbe ridurre intorno alle 100 unità, 150, non si sa bene, di personale tecnico. Fermo restando che aspettiamo i 149 su 315 che verranno assunti, non si sa bene quando, in seguito all'ultimo corso concorso. Per cui la cosa che noi stiamo chiedendo è che ci sia un'alleanza con il territorio, dalle figure politiche alle figure istituzionali, alla Marina, affinché ci siano delle assunzioni. Assunzioni che significa rinvigorire tutta la difesa di Taranto, che è quella che offre supporto alle unità navali e che sono davvero indispensabili per il ruolo che esercitano. sapendo che questa è un'attività che garantisce alla Marina autonomia di intervento, permette di calmirare i costi. Le faccio un esempio. Prendere un'attività di gru dall'esterno ci costa 1800 euro al giorno, che è pari allo stipendio di un mese di un gruista. L'altro esempio che si può fare è anche quella di una bettolina che qualche mese fa l'amministrazione stava, la difesa stava cercando per le attività di rifornimento delle navi e quant'altro. Voleva prendere a noleggio una bettolina con tutto il personale per 7 milioni e 400 mila euro. La gara è andata deserta. Che significa? Significa uno, che non c'è più personale. Due, che in assenza di un competitor pubblico i prezzi lievitano. Quindi 7 milioni e 4 non sono stati sufficienti. Allora noi questo chiediamo. Chiediamo che la Marina non disperda un patrimonio di attività dirette che ancora oggi può vantare. Noi facciamo le missioni, facciamo le attività sui radar, sui missili, sul sistema d'armide che stanno a bordo. Facciamo disinquinamento con le panne. Questa è un'attività che fa Maristanav. Viene aperto e chiuso il ponte dal genio e quindi gli interventi che servono. Tutte queste attività non possono e non devono andare disperse. Perché? È importante che intanto lo Stato risarcisca Taranto per tutte le aree che sono state cedute. e parliamo di 90 ettari per l'arsenale e 60 ettari per Maristanav a base navale. E parliamo anche del fatto che è un'attività indispensabile. Soprattutto oggi che in un quadro incerto che deriva dalle guerre e quindi dal ruolo che ha l'Italia in questo quadro riconoscendo a Taranto una valenza e una strategia geopolitica e geostrategica proprio in queste questioni è importante che queste attività non vengano disperse perché può essere utile in qualunque momento poter intervenire in modo autonomo e l'abbiamo sperimentato perché alcune attività che sono state fatte in acque internazionali lì dove l'impresa privata aveva chiesto più tempi più tempo e più soldi sono state sviluppate in pochi giorni 4-5 giorni e quindi a un minor costo dai nostri diretti fino a che ce ne avremo. Se le vostre attività sono così indispensabili perché la difesa non investe qui a Taranto? Investe su altri arsenali in altre città d'Italia? No, il problema è che il Ministero della Difesa non investe ed è un fatto che ha una memoria. Generalizzato quindi? Eh? Generalizzato e le dico di più che in epoca di spending review nel 2012 ci fu la 244 che ha ridotto l'organico dei civili a 20.000 unità da raggiungere entro il 2024 attualmente siamo 13.000 perché comunque la volontà è stata quella di non assumere di risparmiare sulla mano d'opera diretta però oggi se ne paga lo scotto ma i numeri si sono ridotti drasticamente ce l'ha spiegato bene i numeri si riducono così drasticamente solo per effetto delle mancate assunzioni o c'è altro? Mancano lavorazioni? O vengono affidate a terzi? No si riducono proprio per le mancate assunzioni perché anche lì dove un tempo magari c'era la volontà di esternalizzare oggi non avendo abbastanza personale che possa svolgere le attività gioco a forza devono essere esternalizzate è un'altra cosa noi in Arsenale abbiamo ristrutturato una serie di officine per cui abbiamo due poli funzionali dove sono stati spesi un macello di soldi e sottolineo che il piano BRIN è stato voluto fortemente dalle organizzazioni sindacali con degli scioperi e degli interventi fatti sul sindaco Stefano dove sono stati investiti 37 milioni di euro del CIS proprio per il piano BRIN e quindi mettere a posto questa situazione e poter avere le assunzioni E allora così questa lavoratrice Anna volevi aggiungere qualcosa poi leggo la nota della parola una riflessione che proprio prendendo spunto dalle affermazioni di Grazia Albano la segretaria provinciale dell'FP CGL di Taranto serve un'alleanza è un termine importante serve un'alleanza tra la società civile la politica le amministrazioni c'è questa alleanza a Taranto perché altrimenti poi tante piccole vocine che sono quelle dei dipendenti è più difficile con difficoltà si fanno ascoltare sì anche difficoltà poi rappresentare esatto beh lunedì questa cosa spero che l'abbiamo fatta c'è stata una bella manifestazione a cui avete partecipato anche voi dove c'è stato un impegno da parte di tre onorevoli Tarantini un assessore regionale Lopane il senatore Mario Turco l'onorevole Pagano e l'onorevole De Palma che quindi maggioranza e opposizione che si sono presi l'impegno di rappresentare dal governo questa grave carenza organica e speriamo che di di raggiungere di continuare così su questa su questa onda tracciata su questo sentiero tracciato dalla CGL e quindi di rappresentare ecco aggiungiamo che la CGL c'è già stata varie volte in arsenale per rappresentare questi problemi che in questa assemblea avete invitato un sottosegretario alla difesa che si occupa proprio di questo ma il sottosegretario ha declinato l'invito cioè ha detto io non voglio venire proprio in maniera chiara questo ci hanno riferito i vertici del sindacato c'erano Giovanni Taccangio che è il segretario generale della CGL di Taranto ma anche Florindo Oliviero che è il segretario nazionale della FP CGL non abbiamo il tempo di farvi ascoltare tutte le interviste però questo è un dato significativo una persona che non abbia il tempo o forse la voglia di interfacciarsi staremo a vedere ma di fatto questi sottosegretari ci sono già stati in arsenale appena qualche settimana fa li ho intervistati e c'è sempre una ricognizione un voler valutare la situazione ma i problemi sono noti c'è sempre qualcosa che chissà per quale motivo sfugge che non è al posto giusto non vorremmo fare gli avvocati del diavolo però poi arrivati a un certo punto a pensare male a volte sembrerebbe che la difesa non vuole investire non diciamo su Taranto ma in generale su questo comparto che però è importante avete ascoltato bene perché quante cose fa ad esempio l'arsenale a Taranto vi leggo brevemente una nota che ci ha fatto per venire Marina Sud il comando interregionale marittimo sud avete visto che ha partecipato all'assemblea anche l'amiraglio di squadra Vincenzo Montanaro che è proprio al comando che dice andiamo prima alla radio brevemente veramente una nota velocissima Montanaro e così come gli altri rappresentanti della Marina non hanno rilasciato interviste però ci hanno fatto arrivare una nota dove tra le altre cose dice gli arsenali sono strategici per la nostra nazione hanno funzioni abilitanti per lo sviluppo dell'industria cartieristica nazionale e l'impegno della difesa sul territorio ionico è molteplice ha detto Montanaro l'arsenale di Taranto è al centro di numerosi progetti di ammodernamento e valorizzazione e in via di consegna un blocco di lavori per il bacino Brin tre officine polifunzionali progetti per la ristrutturazione insomma volendo stringere l'ammiraglio assicurato che c'è attenzione da parte della difesa noi ringraziamo per avercelo fatto sapere saremo curiosi di capire dalla difesa che cosa ci dicono chissà che non torni qualche sottosegretario a parlare torniamo ai noi ai nostri problemi che noi non nascondiamo mai anzi cerchiamo di smuovere un po' le cose se lo ricordo c'è con noi Pietro Avellino che ancora ringrazia della FPCGL di Taranto siamo in chiusura di blocco ma vorrei che lei esprimesse un messaggio finale un auspicio da sindacalista di un sindacato molto attento al tema ma anche da lavoratore dell'arsenale io quello che chiedo è che innanzitutto noi militari cioè i militari e i civili a Taranto sono 18 mila e quindi ha un impatto economico sulla città importantissimo e quindi chiedo un'attenzione del governo maggiore affinché si eviti il disastro noi temiamo un rischio che le navi possono effettuare i lavori presso altre regioni presso la Spesa c'è un esempio recente è già successo e quindi chiedo l'intervento immediato per fare queste assunzioni assunzioni però non con dei criteri fantascientifici che adesso cioè non dobbiamo come è l'ultimo concorso non dobbiamo assumere astronauti ma dobbiamo assumere operai specializzati o da specializzare ma possiamo assumere dobbiamo sederci al tavolo per scegliere insieme di criteri più efficaci criteri che possono assumere direttamente dai centri per l'impiego oppure dalle scuole di formazione operaria che abbiamo qui sul territorio perché no? certo insomma ci sono immagini io penso forse ignorando qualcosa che si possa assumere qualcuno come diceva il nostro ospite Avellino ma l'ha detto anche Oliverio che appunto è segretario nazionale banalmente dei ragazzi appena usciti da un istituto di formazione da un ITS da una scuola superiore esatto li mettiamo a lavorare risolviamo un problema anche lavorativo li facciamo formare da questi lavoratori che hanno esperienza anche perché non tutti vogliono fare il percorso universitario ed è giusto anche visto che c'è bisogno sul territorio anche sugli ITS molto spesso si fa questa osservazione devono essere formazioni attinenti alle richieste del territorio devono rispondere alle richieste del territorio insomma ci sono le industrie c'è l'arsenale c'è il turismo di questo dobbiamo parlare semplicemente far incontrare queste esigenze e provare in qualche maniera a soddisfarle nell'interesse di tutti a volte ci sono cortocircuiti incomprensibili a noi poi ci saranno delle motivazioni qualcuno capirà qualcuno capirà ma pensateci voi a casa noi non aggiungiamo noi siamo lineari nel pensiero assolutamente e mai maliziosi o quasi mai musica Grazie a tutti